forza ragazzi eccoci qua bentornati bentornati a questo nuovo video mister viola vi dà il benvenuto oggi parliamo della vigilia di torino fiorentina e naturalmente parliamo anche di questo mercato chiuso a detta del signor pradema è un mercato chiuso che non entusiasma la piazza sinceramente quindi tanti argomenti che tratteremo in questo video sigla e poi subito a parlare di torino fiorentina e calciomercato eccoci qua ragazzi eccoci qua allora sempre forza viola ragazzi prima di cominciare subito a parlare di torino fiorentina la partita che ci sarà domani scontro salvezza punti salvezza per entrambi le due compagini che mai ci saremmo aspettati di potersi sfidare soltanto per lottare per la salvezza vi voglio subito ricordare gli appuntamenti di domani sera mi raccomando 20 e 30 non mancate sarò in diretta sul mio canale youtube mister viola per vivere insieme a voi ragazzi le emozioni che devono essere obbligatoriamente a tinta viola di torino fiorentina in diretta nella partita inizierà alle 20 e 45 noi saremo in diretta alle 20 e 30 parleremo anche un po di mercato perché naturalmente secondo me ancora qualcosa si potrà muovere aspettate non andate via perché domani domani perdonatemi sabato sera alle 21 e 30 torna grande richiesta calcio d'angolo l'angolo dei tifosi viola sarò in diretta ma attenzione ragazzi segnatevelo perché non sarò da solo per la prima volta calcio d'angolo avrà un ospite un ospite importante che voi tutti conoscete naturalmente vi dico solo che è un tifosissimo viola che non vive in italia ma non dico altro perché tanto uscirà il post che vi darà ulteriori informazioni quindi mi raccomando weekend di calcistico a tinta viola con il vostro amico mister viola venerdì sera torino fiorentina il giorno dopo per il sabato sera calcio d'angolo mi raccomando ragazzi come fare a non perdere questi appuntamenti beh è facilissimo ragazzi molto semplice iscrivetevi al mio canale youtube mister viola attivate una campanella proprio per non perdere tutti i miei contenuti naturalmente condividete il video con tutti i vostri amici tifosi viola e ragazzi lasciate un bel like per sostenere il canale naturalmente mi trovate su instagram e facebook iscrivetevi seguitevi e vi lascio il link in descrizione dei miei shop online bando alle ciance ragazzi parliamo di torino fiorentina oggi ha parlato brandelli brandelli è stato molto schietto giocherà nuovamente la formazione ha giocato contro il crotone scusatemi stavo per dire contro il torino perché abbiamo bisogno di certezze l'unico dubbio potrebbe potrebbe essere l'inserimento di pulgare al posto di buonaventura se brandelli volesse un centrocampo un pochino più coperto naturalmente brandelli ha detto che non siamo fuori dalla zona calda quindi bisogna ragionare ancora da squadra provinciale ma crederci e soprattutto essere aggressivi il torino è una squadra molto pericolosa che con l'arrivo del nuovo mister sicuramente è diventata più compatta è una squadra che dobbiamo temere naturalmente zazio e belotti avete visto in copertina io ho scelto le due punte che domani sera sicuramente vorranno essere protagoniste per tirare la propria squadra alla vittoria ci aspettiamo e ci speriamo che blauvic faccia un gol in più di belotti e soprattutto ci porti alla vittoria perché domani punti servono come l'aria perché naturalmente a 21 punti la fiorentina 14 punti il torino sicuramente auguriamo al torino di potersi risollevare il primo possibile da queste sorti in questo campionato però sicuramente non deve partire da domani sera perché domani sera la fiorentina deve sicuramente vincere una squadra che ripeto si presenterà nuovamente con questo 352 di caratura praticamente brandelliana slash jaciniana ci aspettiamo ancora liberi a andare a fare coppia con blauvic e in difesa attenzione potrebbe esserci la sorpresa quarta al posto di pezzella o comunque di milenkovic attenzione perché quarta sta piano piano scalando la gradatoria diciamo di titolarità sicuramente un difensore che dà tanta sostanza poi naturalmente dovrebbe nuovamente esserci a centrocampo castrovilli amrabate e attenzione come ho detto prima l'unico dubbio è buonaventura o pulgar quindi brandelli se vorrà essere un pochino più coperto probabilmente sceglierà il cileno perché comunque la fiorentina sta rifiutando tutte le proposte per il proprio giocatore centromampista cileno quindi attualmente pulgar rimane alla fiorentina altrimenti nuovamente buonaventura che è stato uno dei migliori in campo con il crotone naturalmente ci aspettiamo una fiorentina vincente ovvio che andiamo a torino contro un torino che vuole raccattare punti un torino che sa che queste sono i punti salvezza per allo stesso tempo una fiorentina che deve sicuramente continuare questo trend positivo perché naturalmente le partite che ci aspettano non sono facile abbiamo torino poi inter in casa e poi sampdoria un tretico di partite veramente difficile contro due squadre contro tre squadre perdonate perché anche il torino è molto difficile la sampdoria è molto difficile soprattutto l'inter è uno schiacciassassi in questo momento quotata per la vittoria dello scudetto adesso diventa molto difficile il girone di ritorno perché purtroppo abbiamo tutte le squadre con cui giochiamo lo scontro diretto per la salvezza fuori casa e poi invece abbiamo le grandi squadre in casa quindi una fiorentina che doveva essere sicuramente più quadrata una fiorentina deve essere molto più collettiva e molto più cinica sottoporta con il crotone non abbiamo chiuso la partita ci abbiamo rischiato alla fine anche se poi le occasioni vere e proprie le abbiamo sempre avute noi però domani con il torino dovrà essere una partita cinica dovrà essere un gol un tiro un gol un tiro un gol perché bisogna essere cinici là davanti bisogna cercare di buttarla dentro e sicuramente fare un gol in più dell'avversario senza essere scoperti troppo credo che domani le due squadre non vorranno giocare per il pareggio credo che si studieranno avranno sicuramente timore di apriressi tanto però prenderli ha detto voglio una fiorentina aggressiva voglio una fiorentina propositiva voglio una fiorentina che cerca di andare a fare il gol speriamo naturalmente che domani prenderli riesca a plasmare la mentalità vincente di questa squadra e che la fiorentina possa rientrare a firenze con ulteriori tre punti su questa classifica che sinceramente non è così disastrosa rispetto a tante altre ma vi ricordo ragazzi che veramente basta sbagliare una o due partite ti ritrovi risucchiato nella zona rossissima di questa classifica ragazzi parliamo invece del mercato pradella ha detto il mercato è chiuso la fiorentina ha messo a segno anche il portiere giovanissimo oggi ha messo a segno un altro colpo è un 2004 attaccante direttamente alla grecia si fa tanta programmazione l'ha detto anche l'ha detto anche oggi cesare prendelli in conferenza stampa perché gli è stato chiesto anche il proprio futuro dice io non sarò mai un problema per la fiorentina io sono qua se la società mi vorrà io rimarrò se invece avrà altre idee io capirò e mi metterò da parte però oggi sto vedendo un campionato un carciomercato che comunque va di prospettive quindi comunque due giocatori giovani in casa malè che pagato 700 mila euro ma arriverà a giugno cocori per tre anni onestamente malè avevo detto che avrei realizzato un video su malè scusatemi non su malè perdonatemi su mal qui il problema è che mal qui non è nostro nel senso è un titolo temporaneo fra sei mesi il giocatore torna a napoli quindi sinceramente perdere tempo di parlare di un calciatore che onestamente per me è il doppione di lirola e tanto valeva tenersi lirola però non voglio entrare nuovamente nei meccanismi di questo calcio mercato Pradella ha detto in conferenza stampa ha detto i calciatori che volevano andare via li abbiamo accontentati chi arriva arriva con un senso di appartenenza a questa squadra sinceramente mal qui si vorrà rilanciare per poi essere protagonista in questo napoli che gattuso gli ha chiuso le porte naturalmente è stato anche contattato ancelotti per parlare del calciatore ha detto che il calciatore è sicuramente un esterno offensivo molto utile nel 3-5-2 su cocorino cocorino comunque sascia il giocatore si deve rilanciare l'ha detto io sarò un bad boy in campo non fuori dal campo voglio tornare ad altissimi livelli voglio far vedere quello che non sono riuscito a far vedere in passato però diciamo che è un calcio mercato che non c'è entusiasma ragazzi parliamoci chiaro Eseric a detta di Prandelli rimarrà alla Fiorentina ha rifiutato il Crotone si cerca di sistemare Montiel che ha bisogno di giocare sicuramente deve andare in prestito a giocare quindi una Fiorentina che paradossalmente potrebbe realmente rimanere così spesi pochissimi soldi bisogna essere onesti probabilmente sono stati spesi in totale più o meno 5 milioni di euro considerando che ne ha incassati 16 per la cessione di Pedro al Flamengo a titolo definitivo e il milione di prestito che hai preso con Duncan quindi una Fiorentina che è andata molto sul risparmio non credo che sia colpa di Commisso che non ha voluto investire ma credo che il mercato di gennaio riservi difficoltà oggettive nella gestione delle trattative e sicuramente Commisso non ha voluto spendere troppi soldi perché comunque si si sta tracciando con qualche giocatore prospettiva di futura però sicuramente non si può buttare giù una squadra che poi nuovamente e al 99% verrà smantellata a giugno e probabilmente anche con gli addetti ai lavori però questo è una questione che ne parleremo a giugno e adesso bisogna concentrarsi sul campo e oggi la Fiorentina ha aperto finalmente o meglio finalmente sta aprendo gli orizzonti all'occidente a tutto quello che è di fuori il panorama europeo perché è entrata in un sito ufficiale in Cina arriverà anche il sito ufficiale in Russia quindi una Fiorentina che piano piano comincia a parlare molte più lingue sicuramente questo è un lavoro importante perché il merchandising è una cosa fondamentale per le squadre oggi come oggi è business quindi Commisso lo sta facendo quindi oggi diciamo la Fiorentina sbarca in Cina è questo sito importante uno dei siti più importanti che parlano di calcio la Fiorentina ha la sua pagina e naturalmente anche in Russia ne approfitteranno proprio per il fatto di questo acquisto Cocorin quindi diciamo un acquisto in prospettiva sperando che possa rientrare il calciatore ben visto nel 2018 prima dell'infortuna e tutto quello che è successo e sicuramente con l'acquisto anche si utilizza il marketing il merchandising per approdare in Russia quindi insomma una Fiorentina che piano piano si allarga però bisognerebbe stare un pochino più concentrati sul campo oggi tra l'altro si è anche parlato dello stadio l'Empoli vende il proprio stadio quindi dice perché non lo compra con me se si fa lo stadio nuovo a Empoli anche questa insomma è venuta fuori così l'ho letta oggi quindi insomma veramente però parliamo di campo ragazzi domani vi aspetto in diretta Torino Fiorentina 20 e 30 sul mio canale non mancate sabato sera vi aspetto appuntamento calcio d'angolo l'angolo di tifosi viola e non sarò solo ragazzi come sempre forza viola vi aspetto domani sempre forza viola tre punti domani a Torino e poi cerchiamo di scalare questa classifica ciao forza viola a domani grazie a tutti